L'educazione alla cittadinanza digitale è una priorità della legge sull'educazione civica e anche un tema di forte attualità. Cominceremo con una rittura critica dell'articolo 5 della legge per offrire una panoramica di idee, di didattiche trasversali e attive ai vari ordini di scuola, fatto di pratiche, di materiali, di buone pratiche, di materiali, di video, di mappe, di dati e di dossier. Approfondiremo alcuni temi come il metodo della ricerca in rete e la validazione delle informazioni e i social network come luogo di comunicazione, relazione, identificazione, diventati social media, quindi anche luogo di informazione. Parleremo dell'uso scorretto dello smartphone e soprattutto parleremo della crisi attuale come laboratorio di cittadinanza, anche digitale, vissuto in modo consapevole e collaborativo a scuola e a casa. Ma parleremo anche di inetichette, di regole in rete, di odio, violenza e linguaggio ostile all'interno del web, di tutela della privacy, prevenzione della dipendenza, cyberbullismo e così via. Alla fine i ragazzi dovranno essere in grado di sapere, essere consapevoli di che cosa succede sulla loro pelle in rete e dall'altra parte di rispondere alla domanda in che mondo web vivo. Grazie.